Mostra convegno Expo Comfort è nel mondo l'appuntamento di riferimento nei settori idrotermosanitario e dei sistemi di climatizzazione. 2500 espositori e 167.000 visitatori hanno confermato anche nel 2008 una leadership incondizionata per un evento che offre un panorama completo su tutta la filiera del settore, luogo ideale di incontro fra domanda e offerta. Tecnica e passione, avanguardia e tradizione, l'area del caldo è momento di confronto tra i più importanti protagonisti mondiali del settore, la più completa rassegna delle novità di prodotto per un comparto in costante evoluzione. Tradizione, innovazione e design si coniugano nel settore del freddo per offrire infinite occasioni di business. Un appuntamento ormai imperdibile per il confronto tra culture imprenditoriali diverse e nuovi concetti di tecnologia. Il mondo dell'impiantistica per l'acqua è da sempre una delle aree distintive e dimostra Convenio, un'area capace di offrire un panorama completo dell'intera filiera produttiva e distributiva in uno dei settori fra i più articolati. Tecnica e innovazione si coniugano nell'area dedicata all'attrezzeria. Un appuntamento d'obbligo per le piccole e grandi aziende, protagoniste dell'evoluzione del comparto. Evento capace di integrare gli aspetti tecnici e tutta l'emozione di design, piacere, relax e comfort. In sinergia con le altre aree di MCE, Expo Bagno offre importanti opportunità di contatto con gli operatori dei più diversi settori di attività presenti da sempre a Mostra Convegno. Con Next Energy, Mostra Convegno Expo Comfort anticipa le tendenze di settore ed esplora le nuove e irrinunciabili frontiere della salvaguardia dell'ambiente e dell'efficienza energetica. Spazi espositivi, ma non solo. Convegni ed eventi completano l'offerta di Mostra Convegno ed approfondiscono, grazie al prezioso contributo di partner nazionali ed internazionali, le tematiche di maggiori interesse e attualità. Iniziative sempre nuove e uno spazio di confronto scientifico con esperti e protagonisti del settore. Un intenso programma di interventi che arricchiscono edizione dopo edizione il valore di Mostra Convegno Expo Comfort. Mostra Convegno Expo Comfort vi dà appuntamento dal 23 al 27 marzo 2010 in Fiera Milano. MCE Emotional Technology